ciao a tutti e benvenuti sul canale oggi pescheremo a light spinning sulla lama mentre giulia pescherà a fondo con il gamberetto dato che ormai siamo in inverno i pesci tendono a essere molto meno reattivi e stanno in gruppi o in piccoli banchi nelle buche del fiume quindi noi oggi ci siamo avvicinati a questa buca che ci sta sotto al ponte dove teoricamente dovrebbero esserci qualche carpa e pesce gatto per pescare a spinning useremo questo piccolo gommino che ricorda un verme e useremo la testa piombata da 4 grammi senti piano troppo in alto vai ritira ritira vediamo che cos'è bello aspetta che vado a prendere sta ferma andiamo a prendere ecco andiamo a prendere il pesce gatto sta ferma lì ci vado io guadiniamolo ferma non tirare non tirare non tirare non tirare ecco qua il primo pesce gatto guarda per tanto ecco qua eccolo qua il mio primo pesciolino ritira un po' ciao ti chiamerò bob ritira un po' il filo ecco qua ferma ferma il primo pesce gatto di Giulia guardate che bello che è adesso lo slamiamo aspetta che faccio una bella guarda qua è anche bello in forma guardate qua che bel pesciolino ha preso Giulia un pesce gatto americano questo è ancora cucciolo molto carino molto bello grazie per essere il mio primo pesce adesso lo rimettiamo in acqua bene e siamo arrivati alla fine anche di questo video oggi Giulia è stata bravissima perché ha pescato per la prima volta il suo primo pesce a fondo con la coda di gambero mentre io sono riuscito a spaccare tutta la montatura lanciandola contro il muro quindi la mia prova di pescare a spinning è andata abbastanza male speriamo che vada meglio la prossima volta quindi se il video vi è piaciuto lasciate like e commentate ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata di Funky Pesca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti